Perché io sono troppo... Uno! Ah questo valeva già? Sì! Così è facile! Due, quattro, cinque... E poi devo andare a prendere il ciocco! Grazie, sì! Magari corre! Ah ok, era una gara a tempo, non lo sapevo! Ecco, ciac, si gira! Ok, dici il primo consiglio che ti viene in mente? Su che argomento? Boh, allenarsi a saltare la corda perché si rischia di inzampare, o in caso di questa intervista, almeno lo sai fare! Va bene, adesso iniziamo una vera intervista, vieni, prego! Allora, iniziamo questa intervista e vorremmo chiederti per prima cosa come la psicologia e la comicità si incontrano nel tuo mondo e perché è nata questo incontro? Allora, perché intanto, vabbè, fin da bambino mi piaceva far ridere le persone, poi ho fatto l'animatore nei villaggi turistici, poi nei villaggi turistici mi dicevano tu dovresti andare a Zelig... Allora ho provato e ho iniziato a fare il comico professionista, nel frattempo sia durante i villaggi, durante il cabaret studiavo psicologia, poi mi sono laureato e ho fatto un tirocinio in un'azienda di uno psicologo che si chiama Paolo Verniani che mi ha aperto un mondo perché loro facevano formazione in questo modo, cioè in modo divertente, si chiama teatro di impresa Io non faccio teatro di impresa però insomma mi ha dato lo spunto, l'illuminazione e ho detto io voglio fare questa roba qua perché lui era uno psicologo però faceva anche ridere, io essendo anche un comico insomma avevo delle competenze da poter spendere e quindi ho iniziato a condividere messaggi seri in modo divertente Ma qual è il tuo obiettivo più alto? Cioè tu vuoi aiutare a fare cose esattamente? Cioè il tuo obiettivo più alto? Cioè l'obiettivo più alto nel senso professionale Ma anche forse umano, no? Beh cioè è collegato perché poi nel momento in cui raggiungo quell'obiettivo ovviamente tante persone hanno dei benefici quindi magari far capire, far comprendere, far provare a più persone possibili il fatto che si può gestire il proprio umore E anche i propri pensieri, ecco Veramente si possono gestire i propri pensieri? Sì, ci riesco abbastanza, poi anche le persone che applicano queste cose ci riescono Certo non è con la bacchetta magica però è come quando impari a fare un mestiere, impari delle competenze quindi anche questa è una competenza Ma quindi se ti chiedessimo per esempio un consiglio per vincere le paure Vincere le paure? Non volerle vincere Perché la paura è come la rabbia, sono quelle emozioni che come paradosso se più tu cerchi di combatterla più aumentano Quindi per la logica del paradosso bisogna spostare il focus su altro e quindi in modo tale da gestirle più che vincerle Perché più appunto più uno magari ha un attacco d'ansia e dice no mi devo calmare, mi devo calmare Oppure quando ti dicono stai calmo, in verità ti agiti ancora di più Ma senti ti posso chiedere se ci vuoi dire qual è una tua vulnerabilità? Mi fa senso il sangue Insomma un po' negli ospedali faccio un po' fatica Infatti io volevo fare il medico, solo che facendomi impressione il sangue ho ripiegato sulla psicologia dove il sangue non ne vedo insomma per adesso Bene Cioè è un bagno di sangue studiare però adesso su questa cosa ci voglio lavorare Cos'è per te l'amore? Beh è un sentimento che secondo me muove un po' tutto Sia anche nel lavoro, a volte si pensa che l'amore sia solo fuori dal lavoro In verità anche si può fare un lavoro con amore ma si può anche avere amore nei confronti delle altre persone Non sempre deve essere collegato a qualcosa di sessuale o riproduttivo Può essere anche insomma Amore per un fiore, per un albero Sì cioè anche fra le persone ci può essere amore che può essere collegato alla riconoscenza Può essere collegato alla gratitudine Insomma Secondo me ci sono L'amore fa da collante a tante altre belle emozioni Quindi quando c'è amore molto probabilmente c'è anche gratitudine C'è felicità Cioè se non c'è amore è molto più probabile che ci siano tutte quelle negative Noi stiamo facendo una ricerca O comunque stiamo chiedendo un po' ai nostri ragazzi Se fossero un albero, che albero sarebbero? Che albero saresti? Cioè non lo so se è collegato a chi sono, come sono Però a me piace un sacco, se non lo vedo qua, l'acero nano L'acero nano? Anche se sono alto però mi piace l'acero nano Come è l'acero nano? Tipo sembra Cioè Marrone, castano E poi ha le foglie tipo Come se fosse Adesso non è che sono esperto di tutte le altre Sto guardando in giro se trovo qualche gatto Perché? Mi piace come forma, come fatto Hai la possibilità di risolvere ogni problema della tua vita? No Hai a disposizione un elastico, uno zaino, una banconota da 100 euro Cosa faresti? Cioè con questi devo risolvere ogni problema della mia vita? Ma dipende Se devo chiudere la busta delle mandorle, l'elastico mi farebbe comodo I 100 euro, boh, o li metto da parte Quando ho dei problemi che mi richiedono quella somma lì Con 100 euro non è che faccio molto Però se potessi chiedere al genio della lampada un desiderio Cosa chiederesti? Di risolverti o comunque di esaudirti un desiderio? Ma non lo so Perché mi sono talmente tanto abituato a cercare di risolvermi da solo Anche perché sì, è vero, piace a tutti avere Magari che ti regalano qualcosa, ti aiutano Però il valore cala un po' quando è così facile Se tu oggi avessi un superpotere, cosa faresti per costruire un mondo migliore? Toglierei a molte persone quella nebbia che hanno nella testa Che magari non gli fa vedere le cose davvero importanti In modo tale che poi loro possano agire di conseguenza Qual è la tua rivoluzione? Aiutare le persone ad avere un po' più di amor proprio Perché secondo me, come dicevo prima, l'amore lega tante altre belle emozioni E secondo me se le persone cominciano ad avere più amor proprio Cominciano anche a rispettare di più l'ambiente, gli altri Perché si rendono conto che se tu inquini Comunque ti stai facendo del male a tua volta Quindi secondo me parte da lì Se vogliamo chiamare la rivoluzione Cioè persone che cominciano ad avere un po' più di attenzione a se stesse e la propria salute Di conseguenza secondo me si mettono in uno stato talmente positivo Che ti fa vedere anche gli altri E l'ambiente e la terra che ci ospita in modo diverso Grazie mille, davvero grazie Terenzio Grazie mille, davvero grazie mille Grazie mille, davvero grazie mille